Lei ci mette anche di suo per ogni tanto a sollevare le polemiche, lei qui ha spiegato altre cose, questa settimana c'è la storia di Hitler credo che abbia raccontato, possiamo Giovanni mandarmi gentilmente quello che lei ha dichiarato in modo tale che ci cerchi di spiegare? Perché questa uscita ha lasciato tutti perplessi, Hitler non aveva nessuna intenzione di far scoppiare la seconda guerra mondiale, la vuole spiegare? Guardi dottore, quello che io ho detto è inconfutabile alla luce delle conoscenze storiche a cui siamo giunti, forse un giorno ci saranno nuove scoperte scientifiche ma lo stato attuale delle nostre conoscenze non esiste un solo storico al mondo in grado di confutare quella mia affermazione e cioè che quando Hitler il primo settembre del 1939 invase la Polonia non aveva intenzione di scatenare la seconda guerra mondiale e non si aspettava che si sarebbe sviluppato un conflitto così devastante duraturo. Cioè lui pensava che Francia e Inghilterra sarebbero intervenute? Io inoltre non ho mai affermato quello che mi è stato attribuito dalla stampa, io non ho mai detto perché non lo penso che il responsabile della seconda guerra mondiale sia stata l'alleanza tra Inghilterra e Francia e Polonia. Non l'ho mai detto e non lo penso, mi è stato attribuito ma è un falso così come io penso che il principale responsabile della seconda guerra mondiale sia stato Hitler. Il problema fondamentale è che lei dice delle cose tecnicamente ineccepibili perché uno dice invado la Polonia, gli inglesi, magari i francesi non intervengono, ma Hitler l'avrebbe fatta magari dopo un anno o due la guerra. E gioca un po' sulle parole professore, perché questo è un po' l'alzare l'asticella, forse lei non se ne accorge, ma ogni tanto usa dei riferimenti che possono anche, io mi metto nei panni di chi la vuole appaccare, quale miglior cosa? Dottore, quella mia frase è praticamente un virgolettato che si trova nei capolavori sulla seconda guerra mondiale, io non alzo affatto l'asticella. Ma si, lo disse anche Goering, per carità, però... Ma le potrei citare in tanti altri libri, ma il punto fondamentale è che in Italia c'è un deficit culturale nel campo della sicurezza internazionale, cioè la gran parte dei miei detattori sono privi della grammatica fondamentale, non riescono a distinguere tra due domande fondamentali. Una cosa è la domanda chi è il responsabile della seconda guerra mondiale, domanda che io non ho toccato, e un'altra cosa è la domanda quali sono i meccanismi di innesco della seconda guerra mondiale, che è l'argomento che io ho toccato. In questo momento, professore, quando uno ha tutti gli occhi addosso, anche se, ripeto, tecnicamente lei può avere ragione, però presta in fianco a degli attacchi pesanti, perché lei lo sa che è la semplificazione, che è figlia anche di un'ignoranza, ma è la cosa più banale, che poi però fa andare le persone, come, Hitler, eccetera. Quando lei l'altra volta mi ha detto Draghi è come Lukashenko, cioè io seguo il suo discorso, ma sono delle bombe che lei spaga, perché va in televisione e dice una bomba. Dottore, io... E poi dice una cosa che vorrei, lei dice, io sono stato costruito, formato, dalla testa ai piedi per servire lo Stato italiano, e poi mi massacra Draghi. No, il punto è questo. Anche se due anni fa lo elogiava. Io sono stato formato totalmente per servire il mio Paese, per servire lo Stato italiano, ma c'è una differenza tra il governo e lo Stato. Ci sono dei governi che possono agire anche contro gli interessi dello Stato. L'errore concettuale è di pensare che lo Stato e il governo siano la stessa cosa. Il governo è la guida politica dello Stato. In questo momento io penso che le politiche del governo Draghi nei confronti dell'Ucraina siano delle politiche dannosissime per il nostro Paese, per lo Stato italiano. Quindi il governo Draghi non è lo Stato italiano. E penso che siano dannosissime per l'Ucraina. Quindi il fatto che io sia critico verso un aspetto particolare del governo Draghi non vuol dire che io sia un nemico del governo Draghi. Io non sono un nemico del governo Draghi. Non sono uno che voglia la caduta del governo Draghi. Però quando dice è uguale a Lukashenko, adesso che vada Biden cosa dirà? Credo il 23 parta, no? Dottore, io l'ho spiegato. Il punto, io non ho mai detto, mai, mai detto che Draghi è come Lukashenko. Io ho detto che... E allora siamo all'esolito, professore. No, dottore, ma aspetta. Ero qui davanti a lei. Quella forzatura l'ha fatta, poi lei ci gioca... No, dottore, perché se lei non entra nella mia griglia concettuale... È quello il problema. Allora, il punto fondamentale, io ho posto a confronto... E' questa griglia, professore, che... Lo so, è complessa. Io ho posto a confronto due stati satelliti, l'Italia e la Bielorussia, nei confronti delle rispettive superpotenze. E ho detto che l'Italia sta agli Stati Uniti, come la Bielorussia sta alla Russia. Ne consegue che Draghi è il Lukashenko di Biden. Non nel senso che il Lukashenko e Biden siano uguali, perché è chiaro che uno è un gran signore ed è Mario Draghi, e l'altro è un brutale dittatore. Quindi non c'è un paragone tra le culture politiche e la condotta politica di Draghi e di Lukashenko. Cioè lei dice che Draghi dovrebbe unirsi a Macron e staccare un po' questa pressione americana sull'Europa? No, io dico che è una cosa più complicata, perché non è che Draghi si debba legare a Macron, perché non mi sembra che Macron stia facendo moltissimo per sganciarsi dalla NATO. Certo, sta facendo un po' di più. Io dico che Draghi dovrebbe non inviare queste armi pesanti, dovrebbe avviare un processo politico diverso in Europa, perché il mancato invio delle armi pesanti da parte dell'Italia non avrebbe nessuna conseguenza sulla difesa degli ucraini, perché loro continuerebbero a difendersi. Però avvierebbe un processo politico diverso. Allo stato attuale noi non stiamo avviando nemmeno questo processo politico, quindi noi non abbiamo nemmeno la speranza, nemmeno la speranza. Ma Conte si sta muovendo, vi siete sentiti con Conte o no? Perché ogni tanto leggo in Conte delle sue... Il Corriere della Sera di nuovo ha rilanciato questa notizia che io sarei candidato con il Movimento 5 Stelle, non so più come fare per smentire. Era smentita qua, per carità, ognuno ha una vita tra sei mesi. Purtroppo, perché per me sarebbe un grandissimo piacere avere un incontro con Conte. Però ha detto che si deve staccare dal governo. Ho letto che si deve staccare, quando l'ha scritta. L'ho scritta ieri notte, ma anche qui bisogna entrare nel mio ragionamento. Io ho scritto questo. Sono preoccupato, siccome io amo profondamente il mio Paese, sono preoccupato per la sicurezza della Repubblica Italiana in prospettiva. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se si sviluppa un movimento di opposizione, tutto al di fuori del Parlamento, e dunque al di fuori delle istituzioni repubblicane, diciamo così, questo è preoccupante per me che sono un moderato, perché ci potrebbero essere a lungo andare dei fenomeni ribellistici che chiaramente sono in contrasto con la mia cultura politica, che è la cultura politica di una persona che celebra la moderazione. Siccome il nostro Paese andrà incontro a una severa recessione, avremo la crisi economica dovuta alla pandemia, più la crisi economica dovuta all'Ucraina, purtroppo è prevedibile che avremo più disoccupati, ci sarà un grosso malcontento popolare. Io ho detto che è necessario che un partito politico importante, che sia la Lega, chiaramente io ho pensato al Movimento 5 Stelle per ragione, vada all'opposizione, ma non perché, vede il mio ragionamento è difficile da capire, non perché io ce l'abbia con Draghi, ma perché io sono preoccupato per la sicurezza della Repubblica Italiana. Quindi il mio ragionamento è, sempre un ragionamento in prospettiva, perché uno studioso che voglia difendere gli interessi del proprio Stato non deve ragionare in base all'oggi, ma in base a quello che accadrà fra quattro anni, io dico che è necessario per tutelare la sicurezza della Repubblica, le istituzioni repubblicane e le istituzioni liberali, che un partito importante vada all'opposizione per rappresentare il malcontento esistente e quello che si potrebbe formare. Ma come vede non ci sono posizioni... Ma è chiaro, Conte lei lo voterebbe? In questo momento certamente voterei per Conte. Altre cinque politici, mi risa dire che le piacciono. Allora, sul piano personale, la Meloni è una persona fantastica. La conobbi tanti anni fa, poi non l'ho mai più vista. Credo fosse... La conobbi nel 2008, non l'ho mai più vista, né sentita né incontrata, però ne ho un ricordo molto bello. Siamo a due. Conte Meloni. Conte Meloni. Bersani. Bersani è un politico che stimo da vent'anni, perché è veramente un esempio di tolleranza e di rispetto verso il prossimo. Bersani è un ragionatore. Tu parli, senti parlare Bersani, è uno che fa ragionamenti, non è uno che stia lì a demonizzarti, ad insultarti, ad attaccarti. Altre due ce li ha? Sono stato un grande ammiratore della Raggi. La Carfagna. La Carfagna, stimo molto la Carfagna. Mi piace moltissimo la Carfagna. Nel PD nessuno? Nel PD... Effettivamente Bersani... Almeno che Bersani, al momento credo sia ancora fuori dal PD, ma... Avevo una grandissima stima per Letta. E che è successo? Adesso la questione guerra? Avevo una grandissima stima per Letta, l'ho anche votato, e... sta facendo delle cose... Diciamo, non voglio parlarne male perché non ci sono interpreti del PD, però... e... Non voglio dire cose... cose cattive, diciamo, però... Lei sa che anch'io, magari, ospitandolo, rischio di fare la stessa fine della Berlinguer. Lo sa o no? Questa storia della Berlinguer... Magari Cairo mi perdonerà, ma... La Berlinguer è veramente un pezzo di storia del giornalismo italiano, non merita di essere trattata in questo modo. Lei sa che ho scelto di andare da lei, senza compenso, con tante altre trasmissioni che volevano darmi tanti soldi, e quindi rinuncio a tutti questi compensi perché non ha grande stima. l'ho scelta apposta, una donna, un esempio di rigore morale... Cacciari ha detto che non la chiuderanno, però se ne parla, si discute. Certo, si parla di chiuderla, e ci sono sicuramente delle tensioni, però non voglio dare una rappresentazione così negativa. Si sente un po' responsabile, scusi, glielo chiedo, perché tutto questo è nato da quando lei è andato lì. Certo, non c'è dubbio, io se ricostruisco da storico tutto quello che è successo in queste settimane, la conclusione a cui giungo, a cui giunge anche il Corriere della Sera, tantissimi altri quotidiani, è che il problema sono stato io.